Il secondo modello che vado a presentarvi è il modello SD2, differente dal primo per lunghezza e per forma della punta. È un modello che a me piace molto perché mi permette di avere un suono definito e articolato con particolare attenzione nelle dinamiche del piano, pianissimo eccetera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.